Vuoi vincere un sacco di soldi senza rischiare? Lascia stare, il gioco non fa per te Ma se sei d'accordo con il rischiare e vuoi provare a vincere C'è BadFuck, non BadFuck, ma BadFuck Il migliore in quanto a consigli Link in descrizione Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica Quindi mi raccomando, non troppo, solamente per divertirvi John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Se vi siete persi qualche video precedente Vi ricordo che ci sono usciti per quanto riguarda questa collana I migliori 10 portieri e i migliori 10 centrali della Serie A 2017-2018 Detto questo noi adesso ci buttiamo immediatamente nei terzini Destri o sinistri del nostro campionato della stagione 2017-2018 Per dire quali sono stati secondo me i migliori e i peggiori Prima di iniziare vi chiedo come sempre di mettere mi piace in questo momento Se già domani alla stessa ora volete i centrocampisti migliori del nostro campionato Se non trovate qualche terzino che secondo me ci dovrebbe essere Prima di lamentarvi aspettate dopo domani nel guardare nel caso gli esterni Perché magari ho deciso di metterlo più avanti Detto questo vi ringrazio e partiamo 10. Berezinski Piacevole sorpresa Lo scorso anno fu presentato come futuro fenomeno Ma in tre partite fece più danni della grandine Ha iniziato la stagione concentrato e si è reso protagonista di ottime prestazioni Gli mancano gol e assist con frequenza Ma davvero ottima pedina Bravo Un altro Anna Genova ed è pronto per il grande salto 9. Florenzi Non male anzi Ottima stagione del Core de Roma Che lotta con la solita grinta che lo contraddistingue Anche quest'anno parte per fare l'esterno alto Ma finisce col giocare tutta l'annata terzino E non fa affatto male 8. Asamoah Calato dal girone d'andata Ma ottimo ugualmente Reinventato da Allegri come terzino Rende da Dio Facendo un'ottima fase difensiva Un'arma in più nell'ingranaggio allegriano di questa stagione 7. Isai Buona la stagione del terzino albanese Il partenopeo ha come unica pecca Quella di non apparire in tabellini nemmeno per sbaglio Non segna mai Nemmai fa assist Ma dietro è una garanzia 6. Biraghi Che se lo sarebbe mai aspettato? Preso così all'improvviso Diventa segnale di garanzia Un gol e cinque assist preziosissimi A trascinare una Fiorentina che lotta e corre Volto di una squadra di operai 5. Marusic Che sorpresa Esagerai forse a gennaio mettendolo secondo Non ha tenuto alti i ritmi che aveva confermato di poter tenere nei primi sei mesi Ma si è comunque dimostrato ottimo giocatore Tanta corsa e qualità Il modulo di Inzaghi lo ha aiutato e consacrato 3 gol e 7 assist Bella roba 4. Alexandro Che fatica questa scelta Ho deciso di non farlo salire sul podio perché ha buttato un girone d'andata Inizia con le palle gonfie Poi le sgonfia e inizia a correre Benissimo in ripresa Credo non si possa negare Tanta roba quando scappa Alla fine Allegri lo piazza addirittura esterno d'attacco Per non poter levare a Samoa Comunque alla fine 4 gol e 4 assist Saliamo sul podio 3. Calabria Definitivamente esploso Partiva come sicuro panchinaro Il doppio sfortunato infortunio di Conti gli dà l'occasione per giocare E lui conferme greggiamente le attese Una scheggia sulla fascia Non fa passare nessuno E affosse enormemente il colpo A pieno titolo disputa appena 15-16 partite agglomerate Facendo ugualmente una rete 4 assist Tanta freschezza e intelligenza tattica Ora urge una riconferma 2. Cancelo Anche qua che sofferenza Lui come molti altri si sveglia tardi Ma la posizione se la merita per forza Per forza Sempre il migliore di ogni gara che gioca nel girone di ritorno Decisivo in assist diventa la roccia dell'Inter L'uomo dai cui piedi passa l'intero gioco Va riscattato Per forza 1. Alexander Kolarov Mi sono preso tantissimi insulti per aver detto di credere in lui ad agosto Ora fatemi dire che si merita il primo posto Decisivo a livelli inumano L'unico a tirare sempre 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 la baracca Fa due gol e fottutamente 12 assist 12 assist 12 fottutissimi assist Serve altro? Questi ragazzi erano i miei 10 terzini migliori Della stagione della Serie A 2017-2018 Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video Vi invito a lasciare un mi piace Qualora domani voleste uscissero i centrocampisti centrali della Serie A Mediani centrocampisti trequartisti Io vi ringrazio per essere stati con me Iscrivetevi al canale per altri video di questo tipo Buon scelalala E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video